Salve a tutti ragazzi, sono Lord Kane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato in cui andiamo ad analizzare questo pack di mani passatomi da un giocatore di stars 26.000 mani 9.5 e 10.000 9.10 su cui ci concentreremo principalmente le linee di gioco sono sostanzialmente identiche che è relativamente strano perché dalle stars di hero vediamo che le prime 13.000-15.000 mani sembrano giocate con una certa impostazione di gioco dove la nostra rossa cala in abbondanza, dopo prendiamo un po' una svolta, sale anche la nostra blue, può essere run, può essere quello che vogliamo ma cambia un po' l'impostazione di gioco rispetto a come andava prima, la distribuzione della linea rossa rispetto a quella blue questo hero, caro Fabietto mi dovrei spiegare bene cosa è combinato, se ti sei messo a studiare cose, molto bene, mi raccomando giochiamo sempre con l'intenzione di migliorare, comunque le BBB è discreto ma andando ad analizzare un po' di mani ho notato cose un po' strane, adesso le vediamo comunque da notare che nelle mani più recenti, giocate a noi b10, la rossa è costantemente attorno allo 0, ottimo segnale e le altre linee soffrono un po' una varianza strana, quindi dobbiamo capire un po' da cosa deriva chiaramente su così poche mani può essere pura e semplice run, ci mancherebbe solo, c'è qualche swing di 5-6 stack è qualcosa che mi capitano, tipo mezz'ora più che in 8.000 mani, ma è chiaro che a noi interessa cercare di prendere informazioni rilevanti più che rivelanti per ottimizzare poi il nostro gioco da stats in generale il profilo è spostato verso una sorta di vecchio tag che va bene per un 6 max, sono stats onorevoli abbiamo un attribute mediamente basso, un folder attribute mediamente alto, 65% in generale alto in particolare altro in restill, in blind vs blind, quindi è una cosa che consiglio un po' di approcciare meglio perché vedo nei tribettati, la nostra frequenza basse, basso da small blind, basso in blind vs blind un po' strane anche le frequenze di cibet, nei tribettati accompagnata da un gioco post flop abbastanza aggressivo quindi c'è un po' di sbilanciamento nel nostro gioco, quindi il mio consiglio iniziale è di ripassare o studiare a seconda di che cosa stiamo facendo le macro nei tribettati, è meglio partire da qualcosa di specifico più che partire la tribelt in generale, magari partiamo small blind vs button quindi il nostro gioco OP in difesa dei bui, così andiamo a toccare un po' anche il nostro blind vs blind e poi le impostazioni di gioco nei tribettati contro un range di bottone che è un ottimo start perché è anche uno spot molto frequente un altro spot che andrei a vedere visto anche il fold che abbiamo da small blind 36 di apertura e 74 di fold, quindi ne aspetterei un 74 di fold magari con un 62 di apertura contro un field che non se ne accorge, allora foldiamo di più quando veniamo tribettati contro degli avversari che però tablano troppo, non si accorgono di quello che facciamo e continuiamo a far soldi invece apriamo relativamente poco e foldiamo relativamente tanto quindi anche qua impostare il nostro gioco BB vs small blind, al contrario quando noi siamo da BB e small blind apre e noi dobbiamo difendere ci aiuterebbe poi a migliorare anche la macro small blind vs BB quando siamo noi in race first in i range posizionali sono ok, molto meglio di molti altri che ho visto che i giocatori che mi passano le mani, l'apertura media 38, i range sono posizionali e distribuiti riguarderei un attimo solo lo small blind proprio a seconda dei tavoli ora non credo che iro giochi zoom, bravo, complimenti, fai bene cerca di rimanere sui tavoli normali se puoi è meglio in generale per tanti motivi tra cui le impostazioni di gioco e il cambio di room per quando dobbiamo giocare altrove per esempio se fossero tutti i tavoli così mi andrebbe relativamente bene foldare di più quando veniamo tribettati visto che se guardiamo gli avversari vediamo 0 0 0 0 e tutti i giocatori di profilo fish quindi bene l'apertura più piccola e bene anche foldare un po' di più verso stribet, comunque la dinamica nei tribettati, la difesa verso stribet nei 4bet plus non mi preoccupo anche perché sì le mani non sono tantissime ma la linea non è terribile e sì stiamo un po' overfoldando in qualche spot o meglio difendiamo tutto il range in queste dinamiche ma è piuttosto normale per lo stake sul blind vs blind consiglio un po' di attenzione perché 75 di fold in generale del BB contro un bottone ma immagino principalmente anche contro un cutoff nel senso che stiamo circa difendendo lo stesso range è eccessivo stiamo foldando 3 mani su 4 cioè è vero che se Oppo aprisse size per 6 probabilmente mi andrebbe bene di base foldare 3 mani su 4 ma io credo che reg medio di stars faccia 2.2 magari 2.5 da cutoff quello che è e foldare 75 è eccessivo dobbiamo ottimizzare un po' il nostro blind vs blind studiando la macro e analizzando anche dopo un po' di mani giocate da noi e vedere di riempostare un po' meglio il nostro range in generale post flop a parte questa linea dei tribettati che secondo me una volta studiata la macro si va a sistemare abbastanza facilmente resta una linea un po' diffusa di aggressività flop turn river quando nel gap di core siamo abbastanza agri in generale è una cosa che adesso magari andiamo a vedere con qualche filtro e sulla linea di aggressività in linea con il fatto di avere una rossa piuttosto alta una blu un po' ballerina è probabile che si debba un po' ricostruire i perché delle nostre bet è anche possibile che per quanto l'impostazione generale sia buona ci siano tante diciamo letture sbagliate post flop tante impostazioni un po' troppo a sentimento non dico che non facciano soldi ma se noi vogliamo impostare il nostro gioco verso uno stile migliore e sempre più vincente si può dire esiste il superlativo di vincere vincentissimo vincenzo se vogliamo diventare sempre più vincenti dobbiamo avere anche un think in process che segua la nostra strat che poi possa sbagliare ma migliorare mentre sbagliamo cioè sbagliamo sbagliamo ancora sbagliamo meglio no? fino a fare soldi allora da posizione non ci interessa troppo andare a vedere quello che facciamo in termini di profitto le mani sono poche certo che vedo un early position un po' che perde ma abbiamo 14 di preferable praise mi può anche andare vorrei vedere un attimo il win è molto basso il win è basso ma anche la run adesso queste sono le mani particolari da B-Blind credo ma abbiamo visto dalla linea generale che sì abbiamo un po' swingato i massimi di blu e di solito il blu che swinga più run che altro mentre il rosso è più magari l'impostazione di gioco volevo andare a applicare un attimo un filtro solo perché ho visto comunque un gap di call una linea un po' nitti si overfolda dai blinds ma si aggredisce abbastanza poi quando Oppo non beta vorrei vedere un attimo nel nostro BPP senza linea di tribet stiamo facendo comunque profitto quindi non mi preoccupo attenzione alla linea di call abbastanza frequente da bottone e alla tribet bassa abbiamo tante mani in call in questa posizione poca tribet in generale è vero che stiamo performando bene quindi non mi andrei a preoccupare cioè impostiamo un gioco che va bene anche se abbiamo un range di call l'importante è che siamo consapevoli di che effetto ha sul nostro range di tribet sul fatto che stiamo cappati ed exploitabili contro i blinds e di sapere bene quello che stiamo facendo a pass flop contro chi siamo per giocare un buon poker post flop se noi invece andiamo un po' a chiamare perché la mano secondo noi chiama meglio che tribetata allora c'è un pro gioca meglio chiamata che tribetata forse volevo dire ma allora c'è un po' un problema di tipi comunque stiamo facendo soldi quindi non mi preoccupa mi preoccupa relativamente il fatto che ci sia tutto questo call da small blind non abbiamo messo il filtro di piatto in single reset cioè di mano in single reset pot che possiamo anche andare a mettere volendo non da qui magari da qui single reset pot giusto per vedere la performance di call in realtà chiamiamo abbastanza chiamiamo troppo da questa posizione è vero che stiamo facendo soldi ma è una cosa che preferirei evitare anche perché abbiamo una tribet bassa torna al 7 e stiamo sostanzialmente chiamando lo stesso numero di mani che stiamo tribetando è vero che ci sta andando bene niente da dire cioè anzi il via è buono senz'altro ma è proprio una strat che gioca male in generale ci imposta male il gioco fuori posizione senza aggression è una cosa che in futuro non faremo ecco abbiamo visto che stiamo performando bene in colla quindi non spingo sul fatto modifica prima questo prima ci concentriamo magari sul post flop sulla lettura degli avversari sullo sviluppo della mano dei range andiamo su buy stakes che magari andiamo a vedere principalmente 10 tanto sono sono 10.000 mani non sono tantissime e quindi vediamo vediamo nel concreto cosa possiamo dire a questo nostro hero su come possa fare più soldi già ne sta facendo ma noi ovviamente vogliamo andare a farne sempre di più o meglio impostare una routine che ci permetta di farne sempre di più il fold apriamo per 3 da qui abbiamo fish bassa 3bet fish bassa 3bet va bene anche aprire un range con size più grande se stiamo magari rilanciando un range un po' più piccolo quindi mi va bene chiamano in due flop della meraviglia don bet di un giocatore 30-20 bassa 3bet donca tutto il range che vuole giocare check for del resto in sostanza bassa 1 to showdown qua su questo board resiamo senz'altro e resiamo size big lo dico prima di vedere come post a hero già mi aspetto un resbiccolo visto la nostra linea blu e cosa facciamo in generale come varianza qui dobbiamo pensare chiamiamo e rilanciamo la size e poi puntiamo pot ok chiamiamo la size e puntiamo quello che c'è giù ok quindi chiamiamo 4 e 3 da 4 e 3 andiamo 17 andiamo a puntare a 3 e 22 ok per fare una size che ci permetta di mettere opo tra 33 e 35% poi non importa se è 30 se è 35 tanto tra l'altro qui lo spot è più che 100x quindi potremmo anche voler tenere una size diversa su questo board visto quanto vasto il range e quanto l'equity si sposta sul TARN qua io lo fa una size disastrosa in realtà perché fa 12 12 come dire faccio per 3 della sua tua size che è una cosa che ho sentito dire spesso ma stiamo ignorando il piatto adesso oppo qua una equity cioè ho patossi il 23% su questo board ha tipo sempre equity può avere Q8 Q9 Q9 K9 può avere di tutto di più può avere anche un asso X magari un asso 9 con l'asso di cuori è tutto nel suo range e non è un range che il nostro avversario fonderà visto come sta giocando in freeway quindi alziamo size chiaramente in un contesto così deep non è che possiamo staccare off turn anche se è una cosa che non escludo contro un giocatore del genere ma dobbiamo proteggere la nostra equity fare pot building negare l'equity il giocatore l'altro giocatore impegnato che è un altro giocatore fiscio su questo board può tranquillamente avere un sacco di mani la bassa tribet mette nel range di avversario anche mani come Kjack Qjack assojack non tantissimo bloccherate tanti assi suited sicuramente anche qualche mano come 5-5 10-10 jack jack non mi preoccuperei perché restano due combo letteralmente nel mazzo o se veramente deve girarsi 10-10 un profilo così me la metto via abbiamo fatto qualcosa di male comunque size piccola oppo chiama tarna un po' un problema perché migliora range di oppo migliora anche mani come Q8 per carità jack 8 sì ma non così tante bene ha senz'altro 7-9 nel suo range Q9 nel suo range è un po' un problema il problema principale è che il piatto è 30 abbiamo 130 dietro se qua il pot fosse 50 e noi avessimo 120 sarebbe meglio in generale è chiaro che non è il peggior tarna ma è uno dei peggiori il 9 forse sarebbe circa il 7 probabilmente uno dei peggiori la donna anche perché oppo ha dei Q9 senza e di Q9 di K9 e forse il K per prendere tutti i Q9 ma anche l'8 ovviamente comunque non è decisamente il migliore del bordo oppo betta ancora fa di nuovo mezzo mi fa pensare che comunque qualcosa ce l'abbia siamo ancora avanti al suo range non è un problema infatti adesso andiamo in un indiretto che è un overbatter adesso mettiamolo acqua al 40 no? prima lo abbiamo messo al 20 e al turn su un tar che migliora l'equity del range avversario lo mettiamo al 40 dovremo alzare 6 flop e ora broccare un meno su questo turn contro un profilo del genere in realtà mi va bene però lo voglio fare su un piatto più grande non tenere il piatto così piccolo è chiaro che adesso visto che parliamo Oppo veramente girerà 8-8 o Q9 giustamente o 7-9 probabilmente ma non è tanto la mano specifica il turn che migliora range avversario la scelta al flop e la size sbagliata contro questo giocatore oppo chiama Q9 magico ma se ci pensiamo ed è il succo della questione ora qui ragioniamo sulla mano specifica solo per capire lo spot in sé ma dobbiamo pensare all'intero range Q9 in mano al nostro avversario jack 10 lo mettiamo lo mettiamo anche nei colori giusti perché mi sento pignolo oggi a quanto pare board jack 10 5 di quadri su questo board mano di villa in gioco al 35% lui non dico avrebbe chiamato lì lasciamo stare adesso sapendo la mano bella forza probabilmente lo mettiamo lì nel massimo delle vite intanto Oppo non folda ma non è quello il discorso è che se noi qua facciamo questa size al flop ecco la facciamo questa size e Oppo le mette al 23% e quando vince vincerà addirittura 130 bui che è lo stack effettivo in questa dinamica un po' di più perché in realtà stiamo mettendo 12 540 bui quello che è il suo V è enorme lui sta facendo soldi giocando la mano a questo modo e non è quello che vorremmo che accadesse dobbiamo alzare il nostro valore atteso e gestire meglio abbiamo visto insomma il pot building quella dinamica soprattutto se ci troviamo a mini risare flop dobbiamo essere consapevoli che quello è un mini risa per poi mandare l'ol indiretto che ha una bet to over bet cosa succede qua apertura per 3 il giocatore capra un 20% molto passivo folda poco alle 3 bet folda in generale poco piuttosto nitti un indiretto di 20 bui di un altro giocatore ora fossimo solo contro pacche pacco pacco terry sarebbe un call marginale contro un 20 bui che va all in ma fra foldare e chiamare l'olingua non so niente cosa faccia più soldi probabilmente si può chiamare immagino di default 6-6 contro un giocatore del genere ma lo vorrei da solo il problema è che mi sto già sto già pensando se sia il caso di giocare più o meno i resti contro un profilo 40-10 molto passivo 20-20 e se invece un altro giocatore che ha aperto e che temo non folderà molto e visto il profilo non folderà a mani come 7-7 8-8-9-9 in realtà credo folderà i preflop perché se mi trovo qua a risare è un problema perché chiaramente il 5% delle volte è un po' snappa e si gira sempre da sopra quindi il 5% delle volte facciamo l'80% di me cioè perdiamo l'80% di 144 bui che sono un sacco nel senso se vogliamo fare i conti il valore atteso sarebbe lo togliamo un 3% del sono meno 6 BB100 circa quindi foldare già lo preferisco dire fold il contatto è chiaro che abbiamo un EV al limite contro il giocatore che è la cosa che accadrà più spesso contro Paco ma è un EV al limite non è un EV fantastico dove che se ne frega se il 3% delle volte perdiamo 80 bui quindi qua folderai invece resiamo una size un po' misteriosa tra l'altro non ho ben chiaro a cosa serve a fare questa size tanto se noi si chiama qua non è che Oppo all'improvviso inizia a flattare 2-2 in servaglio se noi resiamo questa size Oppo con lo stesso range tipo AK ce lo manda magari si chiama perché non sa giocare che ne so 9-9-8-8 non sono mani che folderei quindi è una scelta un po' barbina poi Oppo qua chiama adesso un disastro perché il suo range qua può avere un jack suite tutte le player temo può avere ancora suo ASO KKK QQ perché che motivo ha di resare dopo un action del genere si crea un po' da 100 bui gioca in posizione vabbè io manderei più vasche del solito comunque qua addirittura mandiamo una vasca diretta ci siamo un po' impelagati ci siamo andati un po' a schiantare è vero in questo caso avremmo beccato Paco con 4-4 ma temo che comunque Paco in generale non sto intanto risettando il range d'altra parte essendo comunque un giocatore 50-10 capoline non credo mi giri un range tanto diverso da tipo tutte le coppie ho sberto il tasto tutte le coppie ogni 3-2 via una cosa del genere 10% una cosa così se anche girassi una cosa così mettiamoli anche qualche mano in più per carità per carità non so perché ho chiesto la carità in questo momento ma non importa e se noi qua abbiamo proprio una coppia media in questo spot non so cliccare oggi a quanto pare se ho rovinato troppe review 24 review in 3 giorni comunque le mettiamo al 55 abbiamo un 10% in sostanza di differenza di 20 bui con il 5% di essere aperti per 150 bui ok è un fondo in sostanza lungo discorso su una cosa marginale ma ci è capitata questa mano la andiamo a vedere quello ci tocca allora apertura per 3 è un 50-10 0-0 default un po' agro post flop abbiamo fatto una move relativamente standard da una size leggermente superiore al 3 per ip contro contro mp siamo comunque siamo cut off contro mp direi che qua se questa è la nostra size normale dovremmo alzarla andrei almeno a 12 bui size per 4 probabilmente alzerei un po' visto che il profilo è un 50-10 0-0 default 0-0 dobbiamo pensare linea standard no 3 bad size contro questa posizione motivo exploitativo andiamo a vedere il nostro avversario alziamo riduciamo size alziamo riduciamo range quindi alzerei size comunque chiama up esce doncando pot sized direi che essendo un 50-10 che ha aperto chiamato può sicuramente girarci dei 9-9 dei jack jack ma visto il giocatore io immagino che un 50-10 apre circa un 20 da tutte le posizioni qua per intenderci sul range che può girarci il nostro avversario può tranquillamente avere dei kq dei k10 probabilmente anche off-sheet perché giocatori che aprono 20 da tutte le posizioni più o meno hanno tutte le carte alte può girarci sicuramente k10 k10 tutti i vari k10 io li vedo anche degli assi q giocati allo stesso modo ovviamente vediamo anche dei k-jack non dico di no potrebbe girarci q10 probabilmente più suited piuttosto che off-sheet magari no con questa size ma non è impossibile immagino qualche q-jack k-jack senz'altro ci mancherebbe non dovrebbe mai girarci asso-asso k-k non escludo un 9-9 potrebbe girarci qualche jack 10 diamogli solo jack 10 off-sheet e asso-jack off-sheet giusto perché non credo che ci giochi per forza così tutti gli assi jack e mani del genere comunque tenendo anche un range così 10-10 non credo una cosa del genere in una situazione di questo tipo il nostro asso-asso intanto sto facendo dall'altro monitor per scomodità nel senso che sono scomodo mentre lo faccio e voi neanche lo vedete è molto intelligente questa move comunque facendo un range approssimativo di questo tipo una cosa del genere noi qua abbiamo asso-asso vinciamo 55% delle volte gli abbiamo dato anche dei set delle scale e credo che il suo range sia abbastanza aperto non mi preoccupo del fatto che mi giri solo le bombazze visto il profilo pass flop se questo fosse il range non ho nessun dubbio di essere avanti di questo range la mia domanda è folderà qualcosa al nostro avversario no quindi resiamo pure possiamo anche andare lì avrei fatto una size più biggish pre flop onestamente ma non cambia molto qua decidiamo di chiamare perché tanto diciamo Oppo manderà la vasca lo stesso Tarn in realtà per alzare anche un po' il nostro EV reserei prima è vero che Tarn casca un 2 va bene devia le bombe ma se Tarn casca un 10 oppo a tante donne nel range ci troviamo che non sappiamo più che fare casca un k siamo in difficoltà ora tanto se non abbiamo intenzione di foldare nel senso non credo che folderemo contro i giocatori così allora aspettare il Tarn non è decisamente la scelta migliore Tarn comunque è aria siamo sicuramente buoni qua dopo gira lo stesso range che girava prima tipo aq k10 qjack jack jack10 quindi sempre bene tranne quando col suo aq fa la scala però reserei prima questa cosa migliorerebbe un po' l'EV medio non contro tutti i giocatori ma contro un giocatore che 50-10 con 40 di donk e poi le frequenze di quel tipo abbastanza sì allora cosa affrontiamo qua 50-30 un giocatore depo passivo post e profilo di torfold ISO molto lungo di un giocatore piuttosto nitty vedo comunque delle frequenze di fold abbastanza alte un basso guento usce da mi va bene anche tribettare ecco in questa dinamica ridurre i size ecco chiamare qua direi che è un po' al limite perché abbiamo oggi a 10 off e in più affrontiamo una size per 6 da notare che avere da big blind un giocatore che gioca praticamente tutto è una bet così bassa preflop una bet così bassa mi mette nelle condizioni di volere avere un range di colco anche mani adesso qui magari non contro un 6 per di ISO ma anche mani come a jack off kjack off kq off anche mani di questo profilo proprio per lasciare questo giocatore nei piatti divertirci un sacco post flop andiamo a size per 3 che è un po' un overbet contro una size così grande di ISO probabilmente non dico che non faccia soldi ma probabilmente per seguire il mio tp più normale andrei a ridurre qua la nostra size for for fold chiama il nostro hop un giocatore che over fold a prem for bet il suo nuts e poi non folda mai nelle linee plus ma non abbiamo stats e poi vedo un basso point che c'è da un profilo molto molto foldace in generale su questo board metteremo normale ora normale normalmente qua metteremo i nostri 10 bui 12 bui dico 10 12 25% pot perché abbiamo creato un piatto gigante ci abbiamo tribetato per 3 un overbet per flop quindi la nostra size post flop invece di essere attorno a 33 35% mi va attorno a un 20% mi va bene se siamo contro un giocatore di profilo di torfold e decidiamo di alzare size con questo tipo di mani e ridurre size con l'altro tipo di mani pensiamo a una mano come già dice suited che va a civettare size smallish e approfitta dei k dei q eccetera per rimettare tanti questo profilo mi va bene con la size piccola di bar return mi raccomando che oppure non se ne accorghi è chiaro che se io metto forte tutte le volte col punto perché tanto so che oppo una volta che ha chiamato le difende tutte la volta che se ne accorge il giochino si rompe comunque mettiamo invece cecchiamo è un po' un problema qua oppo non ha a k non so quanti a q abbia da profilo magari qualcuno me lo chiama ma gioca fuori posizione quindi immagino qualcosa a forbetti ma non così tanto comunque a parte a q che ci batte probabilmente a jack suited può girarci qq jack jack 10 10 ok 9 9 che ci sta battendo ma la forza 8 8 7 7 6 6 tutte le perci sostanzialmente e che avrebbe difeso flop e possiamo andare anche a prendere un'altra strada di valore tarn non è un granché migliora jack migliora jack jack non vedo mani come jack 9 suited in mano all'oppo abbiamo noi l'asso di picche qua oppo check adesso il problema è che non abbiamo bettato flop se mettiamo turn se mettiamo turn è più un bett to fold abbiamo noi 10 che blocca l'unico combo di bluff che oppo può avere devo forzarle ma penso a un q10 suited che non credo oppo abbia fra l'altro e andiamo a bettare 15 oppo resa dovremmo saper foldare qua il problema è che quando siamo dietro siamo drawing dead nel senso 10 non ci salva l'asso non ci salva e ci siamo morti in sostanza non c'è nessuna possibilità di vincere questa mano in sostanza se oppo ha una mano come jack 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 9-9 siamo sempre morti possiamo foldare il 10 non ci permette di avere spazio di manovra è una carta che oppo non ha in sostanza river blank oppo manda la vasca non ha mai 4 quinti colore magari un kqp che potrebbe iniziare a overplayere a caso ma direi che dovevamo bettare flop vabbè ha preso i jack ma è abbastanza legit però mettiamo flop e queste mani ci pagano su questo turn visto profilo e la mano potremmo addirittura voler cercare per prendere la bluff arriver che non è impossibile troppo inizia a trasformare in bluff dei 2-2 dei 4-4 delle mani così ma non andare a cercare bettare col turn che è una cosa che poi si fa tipo perdere per forza di soldi allora cooptiamo per una 6x4 che non è standard e quindi dovremmo avere un motivo per farlo guardando il tavolo abbiamo un bb 50-20 un 30-20-15 mi sembra un po' forzato probabilmente aprirei per 3 non ho troppi motivi per farlo for bett size leggermente più piccola del normale andrei a torna 27-28 bui il nostro oppo a 0 di for bett 0-0 non sembra un giocatore geniale non perché millwall non sia geniale ma ricorda statistiche mi sembra mal distribuito no? quindi un giocatore di profilo occasionale alzerei size qua poi ho pochi ama e cosa succede qua? vedo bassi fold vedo una linea ultra passiva direi che normalmente qua metteremo non for bettate i nostri 12 bui 15 bui visto il profilo possiamo alzare size e broccare turn quindi andare attorno ai 20 dico 20 per creare un pot no? pot sarebbe 85 con 75 dietro mi sembra una buona scelta ora non dico ho detto 20 per dire una size è chiaro che mezzo pot cercherei di non farlo ma ci sono spot dove mezzo pot mi va bene qua mettiamo 20 a pochi ama turn 8 non è proprio il top ma visto il giocatore direi che brocchiamo nel senso che non dovrebbero esserci problemi ancora tutti i quadri ancora tutte le pair può avere degli 8 ma non ne ha tanti in tribet no? tribet 10 quindi che auto può avere? forse ha sotto suite c'è restano due volte l'8 non credo abbia 8-7 non credo abbia 8-9 non credo abbia gioco 8 mani del genere e mettiamo però invece cecchiamo e non è una gran cosa per coppare un 20-20 di aggressività quindi vorrei mettare river donna non mi piace perché intanto è una pair quindi va beh coucour molto rara ma può tranquillamente avere coucour che c'è un pocato a tanna e in più ai quadri che non è un gran che vedo una river bet relativamente alta ma dubito che ho posso metta a bleffare all in in una situazione del genere e decidiamo di battare questa size misteriosa è una size misteriosa perché se siamo contro spigui e vogliamo battare 10 bui per lasciarlo spiguare potrei essere anche d'accordo potrei anche capirne perché ma se siamo contro un 30-20-10 non è proprio una spigui e qui adesso non ha più range di bleff al nostro avversario secondo me abbiamo giocato al contrario questa mano ok malvagio donna e donna ma mettiamolo lì in prima no alziamo size pro flop ci mettiamo turn una size normale ora qui la size veniva un po' strana ma perché non abbiamo abbiamo fatto una size piccola pre comunque bene per due e mezzo è un 26-20 basso fold in generale basso pre basso post 35-50 showdown linee abbastanza passive con una strana aggressività dopo comunque vabbè un giocatore di profilo abbastanza bc bene la size per 4 col bet normale ok ecco bet normale un corno perché siamo usciti a 10 10 un corno 10 è mezzo pot mezzo pot non facciamolo scegliamo la size un terzo pot normale 7 bui scegliamo la size 65% pot a seconda di come gioca l'oppo qui io direi che una size normale mi va più che bene sama un giocatore normale quindi merita una size normale oppo chiama mezzo turn mettiamo una size minuscola qui stiamo facendo un po' building completamente sbagliato non riusciamo ad avere la mano nel nostro range di all in al river se serve come range di valore ora lasciamo stare che vogliamo o meno finire all in river con la nostra top per top kicker dipende da quanto range di black abbiamo in realtà in linea di massima non è sbagliato contro la maggior parte dei giocatori che tanto in lasso x non ce lo foldano flop turn e river mani come kq probabilmente non lo sanno foldare ma vè comunque stiamo creando un po' da 60 con 85 dietro mettiamo 7 flop sviluppiamo il range sul turn a seconda del run out del range di hop e cerchiamo di avere la possibilità di andare all in river le volte che servono tra l'altro hop resa turn da un giocatore abc quindi bottom range che ci gira qua è a 9 per come la giocata e resta solo a 9 quadri se devo dire la tutta perché a 9 picche non è possibile a 9 cuori anche se è possibile a 9 fiori non può averlo però oppure 9-9 ma ho poche cimini resa su questa turn o veramente mi è entrato con lo so con un eh ma è difficile da ninja che gli sia picche qua onestamente per come la giocata preflop può averla flop può averla turn non mi è chiaro potrebbe dire che non è resa in effetti insomma può aver migliorato anche quel range fatto sta che stiamo tenendo delle size troppo complicate adesso cosa facciamo cioè mandiamo la vasca quando un reg nitici mini resa turn è molto complicato invece mini resiamo che è tipo la peggior mossa che potremmo fare dopo qua gira 4-4 legit e va bene però mi raccomando le size siamo pre possiamo barellare turn possiamo andare ancora lì in valore river visto che giochiamo kicker veniamo pagati da tutti gli asics anche asso 4 adesso su ca i massimi a 10 a jack che parliamo contro alcuni in sostanza e mi va bene come linea di valore su questa texture oppure decidere per una linea di check visto il profilo no non mi convince ma mi raccomando le size sono completamente random e non giustificate da nessun tipo di lettura 7 flop su turn quando il pot qua è un 35 possiamo andare su 35 con 100 un po' meno dietro con 90 possiamo comunque tenerlo normale andare a bettare a turn e 20 e prenderlo nel river non ho fatto i conti in realtà potrei aver sbagliato io stesso il pot building ma mi raccomando non facciamo queste strane size 10 10 10 che sono proprio strane strane allora il nostro hop è un 30 15 15 ben poche mani quello che possiamo dire è che probabilmente può essere sia un profilo reggish anche dal nick sia un profilo fishy cioè tipo un 30 15 tutto è possibile comunque è normale difesa IP va bene su questo board difendiamo la prima e attenzione a Oppo che sta tirando una mina nel senso che esce su questo board che onestamente small blind versus bot mi aspetterei più un full check piuttosto che una mega bordata di questo tipo gigante comunque abbiamo 8-8 con l'8 di quadri quindi difendiamo possiamo difendere anche Tarn invece risiamo ecco in realtà avere l'8 di quadri non mi convince troppo sull'idea di resare e preferirei averla ancora in call e se mai posso resare altre mani la cosa che un po' mi preoccupa è il fatto che post flop questo tizio si è uscito sparando una bordellata e poi ribarella addirittura sui quadri facendo mezzo quindi mi aspetto meno fold equity normalmente chiamerei ora abbiamo anche i blockers sui quadri mani come a sotto suited abbiamo i 7 come out abbiamo i quadri come probability out possiamo raggiungere spesso lo showdown la mano già fa il suo resare qua non è un granché di valore cioè cosa ci chiamano dietro AK off con l'asso di quadri un po' forzata ma non è impossibile e da cosa difendiamo la nostra equity da quello e di bluff chiaramente non facciamo foldare niente perché siamo un po' qua meglio di noi tipo 10-10 non ce la foldano a 9 faccio un po' fatica a pensare che la fold ma faccio anche fatica a pensare che c'era bene range comunque qua ho un po' giro a suo asso direi che amo Tarn se barella ancora River probabilmente è un fold su una tri-barrel di un giocatore che da small blind profilo probabilmente fisci barella a tre strade partendo da una size così grande mi raccomando il Tarn non mi convince troppo l'idea di resare potreste anche convincermi che possiamo resarla ma farete fatica visto che abbiamo noi i quadri comunque Albano Federer che non so Federer non è un giocatore di tennis e Albano tipo una persona che cantava in un'Italia dove io non ero ancora nato non so che sia ma non ha neanche importanza è un 40-23 che apre tre e mezzo quindi qua facciamo una size molto biggish cioè andiamo tipo a 15 bui come idea e facciamo 15 bui sono molto fiero di te ma hai fatto bene non è il migliore dei board possibili e immaginabili è un 40-10-3 che apre e chiama comunque ancora degli assi Q ancora degli assi Jack ancora anche abbastanza mani probabilmente tipo a K che segna pochi che comunque chiama non rese qua ci pagherà ancora mettiamo flop to broke turn quindi il pot è 30 facciamo pot building ora noi normalmente cosa punteremo qua 10 bui hop pochi ama pot al turn è 50 e noi abbiamo 70 dietro ok non va bene in più hop è un profilo fishy quindi alziamo size andiamo per esempio a 20 bui il pot diventa 70 e noi abbiamo 68 dietro anzi farei invece di puntare 20 farei 19.4 così da andare turn a 69.9 che ci sembra la size perfetta che vogliamo comunque facciamo 20 ed ok vabbè il turn è terribile se devo dire la verità è il peggior turn che potesse uscire è un disastro ora vinciamo da 10.10 a jack e a k bloccherati sono un po' in dubbio adesso se voglio bloccare però ottima la size ti dicevo teni solo 0.6 bb in più per andare a 69 vabbè non importa check però ecco check to call non mi piace affatto perché prendiamo più soldi dal suo range di call semmai piuttosto che dal suo range di bet vs smith perché oppo se qua 10.10 9.9 8.8 c'è la check a bet e quindi nel suo range di bet vs smith c'è veramente poca roba magari un paio di a k che però stiamo battendo che probabilmente ci avrebbero chiamato lo stesso perché hanno in cassa di scala e jack jack senz'altro anche se fish magari ce l'ho minima di risa flop generalmente ma non a chiamare ecco qua 7.7 ho già sentato per i massimi ma non mi piace l'idea di ceccollare un profilo 50.10 che apre lungo dalle prime e poi chiama flop barella turn magari la mano si perde lo stesso e già dicevo però su un board Qjack x non è proprio il top avere una mano come kk ora iso lungo va bene contro questo giocatore tribet vabbè qua resiamo dalla forza mettiamo preflop va bene k4 magico a k legittimo va bene con domani normale bravo Fabietto mi fa piacere mi raccomando questa pot building andiamo a 69 allora cosa succede qua un 15-3-7 uno dei giocatori asso di qua asso di qua ok ho letto non so perché tipo asso di quaglia o qualcosa sulla pasqua comunque giocatore super netty over chiuso basati for the turn super passivo vabbè i soliti abc che giocano le carte limp di fish andiamo in 3 per ecco qua andrei a 12 bui direi visto che c'è anche un limp c'è un giocatore che cantano 65 di fondo non fa albetta mai se forbettasse lui probabilmente sta foldando la sua capa preflop se ci va all in c'è un conto e comunque contro questo giocatore praticamente non abbiamo fold equity ma un conto è se resano all in e noi andiamo all in e vabbè magari un 10% di fold equity ce l'abbiamo che alza il nostro V di 2-3 buio a seconda di quanti soldi mette questo tizio se però noi ti ribettiamo e lui va all in allora sta a noi mettere 91 BB su un pop di 110 BB contro il giocatore più chiuso della serie del poker non è così terribile foldare la capa in quella dinamica comunque col di uno col dell'altro ho perso questo spot ahia questa bet non mi piace neanche un po' è un 15-13 che betta qua però c'è da dire che nei range ha ancora dei kq ha ancora degli ajax suited delle 10 suited ok che giocano uguali senza foldare e ha ancora dei 9977 che è una cosa molto preoccupante perché ha un 15-13 quindi quello è il tipo di range che gira direi che qua visto che c'è anche fish vista la dinamica 10 di donk e lì da abbastanza non è neanche terribile broccare anche se abbiamo tenuto il tratto piccolo però attenzione che un giocatore con i c13 gira 9-9 gira 7-7 è vero che gira anche dei kq che poi non so giocare ma non è un equity così fantastico meravigliosa facciamo una serie un po' piccola in realtà come al solito va beh qua per l'altro dopo betta l'esa io qua vedo veramente troppo i 7 che non sono capace di foldare ve lo dico io non so foldare in questa dinamica ma stare facendo delle size diverse il problema è che qua si ci gira 9-9 7-7 e siamo veramente tristi non ha il son draw 9-9 va bene è legittimo e le size più che altro mi preoccupano ora io assicuro che in game non so se so foldare cioè preflop potrei anche foldare quella k postflop su quel board con un fish nella mano e con un giocatore di profilo nittish che mi può girare kq kjack e qualche mano forte suited tipo k10 suited credo broccherei e mamen allora cosa succede qua limp limp iso 7 può anche andare un 60-0 di cui non abbiamo mani in sostanza medium man cloudios medium man da profilo fish comunque chiama texture terribile giocatore mezzo agro cechiamo c'è questo a bordo non si può vedere in sostanza siamo OP e invece mettiamo 9 che è una cifra che non capisco o mettiamo 12 o mettiamo 5 cechiamo non credo che ci sia la possibilità di contare 9 contro 80 bui dietro questa è una scelta abbastanza ardita e cosa stiamo facendo stiamo cercando di comprarci il turn e allora perché mettiamo 10 bui che avremmo fatto più soldi dal range e dal nostro oppo fra troppo raise adesso con questa parte di range ci siamo andati a massacrare bet to raise questo è un disastroso fogliamo per carità vabbè fra l'altro oppo aveva ittato male questo board però io direi che questo su questo board contro questo giocatore è un check se beta stiamo fondando la maggior parte delle volte magari chiaramente se fa un buio siamo felici di proseguire su degli altri board sicuramente possiamo andare a bettare ma un giocatore così che limp colla e cimini resa flop siamo morti nel range di limp limp collo questo board per noi è la morte e pensiamo adesso jack su questo board ma pensiamo all'intero range cioè qua su questo board posso capire anche che ne so 9 no asso asso diciamo vabbè ma non bloccheriamo solo asso 9 ma fish all'incollato può girarci 7-8 può girarci 4-5 può girarci che non so asso 9 k9 q9 può girarci delle pea può girarci poche doppie perché si può avere 9-6 ma non gli vedo dei 9-3 potrebbe avere 6-3 ma sono suite ma comunque abbiamo equiti a jack se noi inizio cioè mi sto facendo i tiramentali con il suo asso se mi trovo a giocare così questa parte di range allora ho anche a jack a 10 a q o a kq o a k jack a 10 che gioco uguale vado sempre a bloccare sul peggior board contro su quel board sul range di limp call del nostro hop isoliamo 5 a volte isoliamo 7 a volte 5 un po' un mistero chiama un giocatore 50-0-0 ok decisamente passivo fall da poco qui dobbiamo fare le size giganti allora è chiaro che con 7 volte virgola 5 lo stack rispetto al pot non riusciremo ad andare all'interno almeno di non puntare 25 bui al flop allora il pot al turn è 60 e hop a 60 dietro è improbabile quindi dobbiamo accontentarci in una pot size bet attorno ai 10 11 bui che mi va sicuramente bene va bene 10 bui turn è un disastro contro il profilo così passivo probabilmente dobbiamo bettare ancora size piccola però il problema è che il pot è 30 e abbiamo due volte e mezzo e anche se siamo dietro abbiamo 10 out è un pessimo turn chiaramente come facciamo a fare pot building in questa dinamica comunque tu scegli una size 20 quindi ti stai commettando dice vabbè metto 20 tanto se mi rese devo mettere 50 su 150 e chi se ne frega 10 out vincerò una volta disse che 10 out ci metterò al 20 e qua siamo al 30 non saprei niench'io ben dire con questo step to pot come si gioca questa mano perché sicuramente il top set figo ma qua un hop così che ci resa io credo che la da tipo sempre scala ma va bene comunque tocchiamo non stiamo a fondare dei top set qua jack 10 va bene legit non so bene la size turn perché è 20 quindi non è ne un overbet e va bene ne una microbet per lasciare che dopo magari ci mini resi perché sapete no magari a scala ha il suo si il suo 10 il suo jack 8 sweet jack e quindi magari ci clicca ne mettiamo 10 lui mette 20 come fanno di soliti fish e allora noi andiamo a chiamare mettiamo 10 su 40 e siamo molto felici di avere la possibilità di fare full arriver e probabilmente fondare si è betta ancora se ne facciamo 20 e ho comando alla vasca il call inizia a diventare un po' marginale alla pesca matta per cui probabilmente direi che una size 10 ne avrebbe convinto di più per poter difendere tutte le volte che mi risano allora apertura per tre in questa dinamica ok donk bet allora questo è un problema perché questo tizio donk è un 40 20 non ha un alt 3 bet donk a 10 ed è molto passivo pass flop e bassi fold quindi è un profilo abbastanza passivo e donk bet a mezzo ho bisogno di mettere nota una donk bet a 10 è un profilo così passivo non so se lui giocherebbe così cu jack off no perché donk bet 10 su questo board non è automatico quindi non vedo molte doppie qua 10 2 sweet 9 2 sweet sono un po' forzate da mettere in mano un giocatore con 40 di dbp che chiama la small blind quindi 19 senz'altro jack 10 non credo con una donk bet a 10 non è così alta la donk bet a 10 non credo abbia tutte le troppe arqua questa è la cosa che mi fa un po' per inserire comunque tourisia che non vedo non vedo perché hold the manager è malvagia comunque c'è scritto qua ok 15 e di nuovo la size vabbè è un po' al limite 25% partecipazione proprio bet to push è troppo passivo per difendere qua sai contro altri giocatori si tipo mi trovi contro michelle michael chi è qua ovviamente si contro una donk bet al 20 25 di un giocatore così probabilmente si contro un giocatore però bassa tribet 20 di frequency di flop 10 di aggressività donk bet three way to raise in mi sa che è uno di quelli spot lo possiamo fondare con la mano 19 ok è in linea con quello che stavamo pensando però non è proprio il profilo normale contro cui vorrei committarmi di flop dopo cadono peccato in faccia 2 tribet per 4 che è piuttosto standard col col di maverick che ci preoccupa molto è un giocatore che fra l'altro tribet a 12 ed ho anche 18 viene un profilo un po' fisci in realtà l'altro giocatore non si capisce è un 30 20 10 un po' passivo o è lo stesso giocatore di prima o ci assomiglia molto comunque attenzione al range di col col di maverick dobbiamo capire se ha il classico range tappato che ne so asseco 9, 9, 10, 10 che non si è sentito ritribettare oppure se ha solo quel range in trap tipo asseco asseco kk che sta provando a giocare in maniera simpatica arabetti 10 da qua comunque lui folda per cui tutti i nostri trip servivano solo a formare la nostra linea la strategia generale ma non nel tavolo specifico comunque il nostro opo folda poco relativamente agro abbiamo le picche mettiamo flop mettiamo ancora tarno avrebbe stato ancora e valuterei l'idea di bluff cacciare frequentemente river vero che abbiamo noi lasso di picche ma resta tutto il resto in mano all'avversario sembra un giocatore ben disposto a bluffare river e questo è un certo colla c'è capa questa bomba pazzesca però la bomba pazzesca non era prevista credo che non saprei foldare onestamente proprio sul profilo in generale del nostro avversario che ci vede cercare tarno su un po' così pescoso quindi e ci fanno questa size non credo che saprei foldare proprio in generale dal profilo che gira quindi ok chiamo e va bene 5-5 la pigliate un river vabbè legittimo prendiamo nota però perché se ci giochiamo ancora contro dobbiamo sapere che questa size 120% river è quella e non credo sia una size ultra polarizzata cioè non credo che sia bilanciato in alcun modo credo che abbia solo quel tipo di mani quando la fa qui fai 4x2 a volte mi cambio questa size ok allora 60-10 cool to cool donka 27 un profilo un po' mattarello su questo board e donka pot e temo non troppo felice per via del board ma reserei qua reserei all in non ha una donkbet 5 non ha un profilo passivo è chiaro che girerà anche qualche colore ma l'unico modo che ho per fondare qui è avere nota dbp donkbet pot tipo colore nats tris set secondo della nota che ho preso e va bene resi un link ci sto ha flopato un colore però prendiamo questa nota che male non fa però va bene legge vediamo un altro paio di mani qua decidi per un per 5 quindi high size exploitative questo tizio in effetti folda molto poco quindi la size ed è corto size exploitative mi piace anche se stai creando un pot un po' complicato ma ok vabbè donkbet o linda e vabbè chiami che devi dire anzi sei ben felice che un giocatore di questo profilo vada in donkbet o linda una bassa tribetta tutti i kx tante picche anche tipo di jack 10 di qjack un sacco di mani che stiamo battendo non ci dobbiamo neanche stare a preoccupare e infatti è proprio qjack magico river mi chiedo solo e lo chiedo a te come mai queste cambi di size legittimo in questa dinamica ma non cambiato in altre dinamiche quindi magari un po' di vettore in più sui fish sui tuoi avversari sui stack topo trazza perché tra pod building costruzione delle mani si nel pass flop ho visto un po' alcune dinamiche complicate già ti dico che hai visto in alcune mani era abbastanza in dubbio ma io prima di dire la mia move cerco sempre di argomentare quale può essere una mia move normale il sviluppo della mia size normale e magari qualche lettura esploitativa decidendo per esempio pensiamo a quel top 7 che era particolarmente intenso questo no questo era un po' un disastro è questa qua dove se noi decidiamo se noi qua decidiamo la linea exploiter e andiamo attorno a 10 bui perché sappiamo che fish di questo profilo tenderanno a risare le scale e chiamare comunque col range che battiamo Q10 Q9 Q19 degli assi X che ancora vanno per pescare la loro carta che ci sta povera ancora di fiori anche ho detto ho perso un pochissimo perché abbiamo noi i k però sappiamo che quel range ci paga e ben per noi sappiamo anche che il range forte mini-race dandoci odds meravigliose mini-race spesso non dico il 100% delle volte però è chiaro che allora se mettiamo 6 piccole possiamo anche foldare e abbiamo risparmiato e siamo fuori odds per chiamare se facciamo 6 grande stiamo cercando di committarci che non è il massimo contro fish 50-0-0 che ci risa tarda quando c'è proprio plateale scala in gioco la platessa il re dei pesci la platessa no non so perché sto facendo pubblicità ai filetti di merle il turno è insuperabile quindi tanto è inutile che provate a inseguirla non so è talmente morbido che si è suicidato con un grissino questi sono spot di quando avevo tipo due anni basta dire sciocchezza comunque abbiamo individuato abbastanza spot credo interessanti su cui lavorare il nostro gioco è buono discreto e c'è stato un discreto proprio un importante miglior cambio di strategia che ha avuto ottimi risultati quindi ottimo lavoro ben fatto mettiti sempre in discussione mi raccomando le macro la linea di tribet la linea di blind versus blind un po' la linea di difesa contro tribet il gioco nei tribet tipo splop la scelta delle aggressività il pot sizing pot sizing pot building e il sizing delle bet la lettura esploitativa si fiscia sono cose che dovrebbero entrare mano a mano a forza nel tuo gioco perché in questo momento mi sembra la cosa su cui dovresti lavorare di più e mi raccomando dammi la mail di google così ti posso passare qualcosa materiale gratuito a disposizione di tutti i ragazzi e delle tre ragazze del team anche se nessuna di queste tre sta grindando in questo periodo vita ingiusta per le fanciulle a quanto pare è ingiusto questo mondo è ingiusto su questa non è una sciocchezza ma su questo commento che chiaramente non è sessista è una realtà di fatto in senso che ragazzi perché non giocate a poker venite a palleggiarci basta sciocchezza fa caldo e basta un'altra sciocchezza su questo ragazzi io vi saluto per il video di oggi è tutto un saluto alla prossima dall'Orkane bye bye